Il prezzo dei fagioli non si addice alla poesia, il prezzo del riso non si addice alla poesia, non si addice alla poesia il gas, la luce, il telefono, privarsi del latte, della carne, dello zucchero, di una pagnotta di pane. Il funzionario pubblico non si addice alla poesia, con la sua paga da fame, la sua vita chiusa negli archivi, come non si addice alla poesia all'operaio, che smeriglia il soggiorno d'acciaio e carbone nell'officina e al buio. Perché la poesia, signori, è chiusa, tutto esaurito. Si addice alla poesia solo l'uomo senza stomaco, la donna di nuvole, la frutta senza prezzo. La poesia, signori, non puzza, né ha odore. Io sono Pietro Pignatelli, questa è una mia traduzione per il Festival Internazionale di Poesie di Milano. Grazie. Grazie. Grazie.